ansa.it slash patate trattino migliori e ci siamo l'url deve essere della pagina dove avete letto l'articolo non solo del sito quindi non ansa.it ma ansa.it slash patate migliori cioè proprio la pagina dove avete letto l'articolo in modo che se uno clicca trova proprio quell'articolo discussione lasciate stare tutto com'è perché volete far mettere commenti e volete permettere che gli altri linkano questa pagina autore siete voi altro fatto importante all in one se opac all in one sarebbe va bene copiamo il titolo questo è molto importante per i motori di ricerca il titolo è uguale ok oppure qua potete mettere un titolo per i vostri autori cioè per i vostri lettori magari anche le migliori patate sono qui che ne so un titolo di fantasia ma qui dovete mettere un titolo per i motori di ricerca per farvi capire qua stiamo scrivendo quello che google ci fa vedere per esempio io adesso cerco lorem ipsos noi stiamo scrivendo questo specchietto qua in all in one se opac stiamo scrivendo questo specchietto qua proprio quello che gli utenti vedono quando cercano su google allora mettiamo che cercano patate migliori tutti i fornitori della zona di cosenza va benissimo descrizione qui sono elencati tutti i fornitori di patate della provincia di cosenza e qui le parole chiavi allora patate cosenza virgola migliori patate cosenza fornitori cosenza fornitori patate scusate fornitori patate cosenza eccetera eccetera massimo 6-7 parole chiavi migliori patate calabria tutte separate da virgola queste ogni parola di queste viene cercata dagli utenti se qualcuno cerca su google fornitori patate cosenza abbiamo più possibilità di vederlo atterrare sul nostro articolo insomma 1 titolo descrizione 2 e keyword 3 sono le cose che andiamo a scrivere per creare il nostro specchietto qui verrà una volta cercato patate migliori uscirà il nostro titolo la nostra descrizione e il nostro link le parole chiavi servono a google per capire se deve portare l'utente da noi o no va benissimo andiamo velocissimo perché mi sa che sporiamo fra poco i 10-15 minuti non lo so se sono 15 andiamo bene comunque sulla destra abbiamo invece le categorie allora patate migliori tutti i fornitori della zona di cosenza di che stiamo parlando? di ambiente? di cinema? di cronaca? di cucina? cucina va benissimo cucina se non c'è la categoria può darsi che state sbagliando proprio articolo quindi guardate prima le categorie se si tratta di un paid to write cercate di essere sempre contestuali alle categorie utilizzate va benissimo quindi cucina post tag non mettete nulla tag 0 almeno per quanto riguarda la mia formattazione sui miei siti non uso mai i tag ma uso sempre queste qua le keyword va benissimo quindi tag niente categoria una sola è ben precisa e basta va bene così potete cliccare su pubblica se siete voi gli editori del blog oppure invia per la revisione adesso io clicco su pubblica e vedremo poi l'articolo presente sul sito è tutto vabbè adesso non pubblico di certo questa fesseria qua però così si scrive un articolo ragazzi per non sbagliare è per dare un'impressione che sappiamo scrivere un'altra cosa molto utile che dimenticavo adesso una volta finito qua avete un dizionario della lingua italiana c'è un correttore automatico clicchiamo sulla freccettina selezioniamo italiano clicchiamo poi su abc e lui ci trova tutti gli errori adesso logicamente questo è latino ha segnato tutto sbagliato ma mettiamo il caso che questa è una parola da correggere ci clicchiamo sopra e guardate un po' ci da anche il suggerimento adesso non ce n'ha perché è una parola latina possiamo dirgli ignora parole lui toglie la sottolineatura rossa oppure vabbè qua non ce ne da perché è tutto latino oppure ci suggerisce lui la parola esatta va benissimo quindi titolo post vero e proprio quindi articolo crudo è poi formattato secondo queste esigenze paragrafi non più lunghi di 3-4 righe immagine subito dopo 2 righe dopo dell'immagine 1-2 righe mettiamo il tag more continuiamo a scrivere come vogliamo basta che distanziamo i paragrafi di 3-4 righe punte a capo 3-4 righe punte a capo link si mettono da qui dal catenaccio le parole chiave le parole fondamentali possiamo anzi dobbiamo metterle in grassetto perché google le ama quindi selezioniamo e mettiamo il grassetto una volta finito facciamo subito un controllo ortografico con abc mettiamo la fonte se il sito ce lo permette gente per gente ve lo permette quindi fonte altrimenti i campi personalizzati non vanno usati per la maggior parte delle cose potrebbero essere usate per le immagini ma per quanto ci riguarda non li useremo da nessuna parte solo su gente emergente per mettere la fonte dei propri articoli discussione lasciamo tutto com'è all'in one se opac only in one questa pronuncia non la posso fare proprio titolo lo stesso titolo del post oppure un titolo azzeccatissimo per quello che la gente cerca su google dobbiamo scrivere proprio le parole che la gente andrà a cercare patate migliori dove le devo trovare ste patate migliori patate migliori cosenza se un utente scrive patate migliori cosenza dobbiamo averlo sul nostro articolo descrizione pensiamo a quello che lui guarderà qui a google non gliene frega nulla della descrizione ma è un uno specchietto per le allodole così per dirla in maniera cacciatolesca che permette all'utente di leggere ah guarda qui c'hanno le patate migliori andiamo a vedere quindi possiamo mettere anche wow che bello le patate migliori in modo da attirare l'occhio dell'utente le keywords sono importantissime cioè per google dicevano non tanto negli ultimi periodi però io le uso ancora non me ne frega nulla 6-7 parole chiavi distanziate da virgola e sono sempre parole che la gente andrà a scrivere su google va benissimo quindi ricapitolando anche le categorie una sola una soltanto post tag nessuno non vogliamo tag non vogliamo tag c'è gente che ancora continua a metterle ne mette 3000 ma noi non li vogliamo una volta finito invia per la revisione oppure pubblica va benissimo questo è tutto e questo è come scrivere bene un articolo su genteemergente.it e su qualsiasi blog wordpress per scrivere come il nostro signore comanda va benissimo pensate insomma sempre di fare qualcosa di serio non mettete ghirigori scritte rosse gialle verde perché chi dovrà poi correggervi l'articolo uscirà pazzo diventerà davvero pazzo va benissimo questo è tutto da nicklamux di crearonline.it e questa è un'informazione importante per chiunque vuole scrivere un articolo bene è formattato secondo seri criteri di leggibilità un bacione a presto e un in bocca al lupo a tutti i miei collaboratori ciao ragazzi continuate così un bacio grazie a tutti grazie a tutti Grazie.